Matteo Ciccino Matteo Ciccino Buongiorno a tutti 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 Il pezzo blu della serata perché oggi aspetta il documento Io ho scritto un pezzo per i musicisti stasera è giusto che lo faccia si chiama Il musicista dove ho scritto il B maggiore la faccio spesso perché mi piace dare sfogo avete visto che sono dei blocchi anche hanno un po' problemi di ecolibri ma questo è un po' il mio maggiore prendo solo le loro caratteristiche attività talentose strumentate e far più o meno così felice e tira dove sei andato tira tira no va non è caso non studiare no non esistere dai non saprei che cosa suonare dai dai fammi sentire quello che ti piace quello che sai fare vai cacchio come sei bravo io non credevo si potrebbe davvero dove, dove che hai studiato voglio sapere chi ti ha insegnato sai lo faccio da solo autodidata dopo il lavoro ma è la compassione che ad un caldare diventa un'ossessione io 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 che ho qui che ti ha Grazie a tutti. E' molto simpatico, dimmi un po' come ti sembra questo petto. E' molto simpatico. 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 Grazie a tutti.